TG Roseto, servizio di Enzo Corini Uno dei servizi maggiori di Roseto è il dissesto del manto stradale. Sia le strade provinciali che circondano la città che quelle comunali hanno bisogno, non da adesso, di una manutenzione. Abbiamo fatto nostre tante le mentere dei cittadini, abbiamo chiesto l'Umi all'assessore De Vincentis, il quale ha asserito che ogni insegnazione da parte dei cittadini viene presa in serie a considerazione e una squadra di operai del comune agisce immediatamente dopo la segnalazione data. Non mettiamo in dubbio le parole dell'esimio-assessore, ma quello che ci meraviglia è sapere che l'Ufficio dei Lavori Pubblici ha un geometra incaricato del controllo della situazione stradale della città. D'accordo, il geometra è sotto infortuna da due mesi per via di un incidente, ma le buche sono lì da molto più tempo. Ci si augura da costrui che prenda carta e penna, si faccia un giro per tutte le vie cittadine, prenda nota delle centinaia di buche sparpagliate nella via della città e metti in moto la famosa task force degli operai per tapparle una volta per tutte.